Continuano gli allenamenti dell'US Avellino prima della pausa di Capodanno con la ripresa programmata il 2 gennaio. Rastelli, dopo aver vissuto un finale del 2022 intensa sotto il profilo dell'assenza e con tanti calciatori colpiti dall'influenza, adesso può contare su tutto il gruppo. In effetti, gli allenamenti che si stanno svolgendo a partire a Lombardi vedono il solo Ceccarelli Fermi e Box e Matera che ha richiesto un giorno di permesso per motivi personali. Gli allenamenti continueranno a porta aperte, così da avvicinare i tifosi curiosi, di vedere il lavoro del Tecnico e dei suoi uomini in attesa di un 2023 totalmente diverso. In effetti, dalla gara contro la Gelbison in trasferta ad Acropoli, il pubblico si aspetta un proseguo della striscia positiva, mettendo da parte un 2022 complesso e difficile. Al tempo stesso, in attesa del calciomercato che inizia ad andare in fermento con tanti nomi accostati ad Avellino ma pochi reali, bisogna capire Rastelli come vorrà proseguire nel suo progetto tecnico. In tanti, affascinati dal 3-5-2 che ha portato l'Avellina ad esprimersi al Maggi in Serie B con Rastelli in panchina, difficilmente sarà il modulo che vedremo attuare dal Tecnico nel 2023. Dopo mesi di lavoro intenso, l'allenatore non stravolgerà tutto, avendo trovato una quadra importante nei vari reparti, a partire dalla difesa sempre più solida e compatta. Ecco quindi che i nomi che arriveranno serviranno per dare scelte nei ricambi, ma soprattutto solidità ai reparti. Grazie a tutti.